Musica Noi abbiamo creato una cooperativa sociale in agosto per riaprire il cinema modernissimo il cinema modernissimo per chi è troppo giovane che non lo conosce o per chi non è di Perugia era lo storico cinema d'essere di Perugia che era aperto, è stato aperto fino al 2000 cinema storico sorto negli anni 30 probabilmente il primo cinema aperto a Perugia è stato aperto continuativamente fino al 2000 quando poi la precedente gestione ha deciso di chiudere per motivazioni diverse il mio punto di vista, che è anche il punto di vista degli altri miei soci è che il cinema sia probabilmente il mezzo culturale più direttamente fruibile anche da parte dei giovani nel senso che noi siamo dei forti lettori degli appassionati di libri però ci mettiamo nei panni di giovani ragazzi per cui in questo periodo di forte digitalizzazione e tecnologizzazione della vita quotidiana lo strumento libro appare molto più di nicchia mentre il cinema, come accennava il professore prima non di cassetta, non di blockbuster da multisala ma il cinema d'autore, il vecchio cinema d'essere come appunto può essere questo film di Martone che cade a fagiolo perché su una figura centrale come quella di Leopardi è uno strumento che può essere sfruttato dalle scuole quindi diciamo, per tornare al discorso di rete che era il concetto di partenza di questa chiacchierata noi abbiamo messo a disposizione della città questo stiamo mettendo perché ancora non aperto apriremo nel mese di dicembre questo spazio cinematografico a disposizione della città e abbiamo deciso di aprire questo azionariato popolare da un lato e di crowdfunding dall'altro è un'apertura appunto alla città un'apertura che cerca di andare incontro a tutte le possibilità e gli interessi delle persone che si sentono vicine a questo progetto la parte più interessante probabilmente sul lungo periodo è la parte dell'azionariato popolare nel senso che, e ce ne sono alcuni esempi qui al tavolo persone amanti del cinema, della cultura in generale e soprattutto molto volenterose, hanno deciso di far parte della nostra cooperativa far parte della cooperativa da parte della cittadinanza implica degli oneri e speriamo degli onori nel senso che poi ci sarà un'assemblea degli spettatori che sarà parte integrante dell'area decisionale della programmazione del cinema cinema che conterà, giusto un appuntino al volo, tre sale quindi anche per diversificare l'offerta cinematografica su diversi tipi di pubblico in diverse fasce orarie per appunto andare incontro a quelle che sono le esigenze di tutte quelle persone che decideranno o hanno già deciso di seguire questo tipo di progetto stiamo cercando, come dicevo prima, di portare qui in città delle esperienze internazionali con le quali siamo venuti in contatto ci siamo molto interrogati su questa cosa e abbiamo visto che, anzitutto, questo nostro progetto a nostra conoscenza è per ora l'unico progetto dal punto di vista cinematografico di questo tipo ovvero un cinema di città quindi è un'idea di un polo culturale di un centro culturale ovviamente di base cinematografico e audiovisivo che poi conterà anche delle interessanti iniziative dal punto di vista teatrale, musicale e letterario gli spazi sono tanti le idee da parte nostra sono molte e sono molte anche le idee che ci sono state proposte dalle persone con le quali siamo venuti in contatto perché oltre all'entusiasmo ovviamente prevedibile per quanto riguardava questo tipo di progetto c'è stata anche una vera voglia di partecipare ci sono arrivate perché non proviamo a fare questo perché non proviamo a fare quest'altro tante associazioni come tanti singoli cittadini che sono venuti nel nostro ufficetto lì al cinema che siamo riusciti a ricavare all'interno di questo cantiere aperto e niente noi siamo molto contenti perché non è per come dire Boria che io dico ce l'aspettavamo nel senso che sapevamo immaginavamo quale avrebbe potuto essere la reazione della città a questo tipo di cosa quello che a noi ci ha colpito in maniera estremamente positiva è stata non solo questa diciamo reazione emotiva all'evento ovvero alla riapertura di questo cinema ma la partecipazione attiva delle persone in maniera estremamente